Attento al rosso, boom! No, eh! Attento! Attento al rosso, bravo! No gufo! Prontissimi! Allora, altra cosa una cosa che ho visto è che hanno aggiornato un pochino la roba che c'è sullo shop e ci siamo persi mi sa il pezzo di sotto del piccione, perché questi mi sa che tra 16 ore cambiano quindi a questo punto non so se acquistare eventualmente qualcosa, abbiamo 8000 monete, dai prendiamo la parte sopra del piccione, signori prima o poi troveremo pure di nuovo le mutande del piccione, dai va, dai! Dove siamo? Eccoci, eccoci! Allora Via! Vai così! Cori, corri! Lo spingete Piano! No! E vedi? E vode... Aia! Va bene anche da qui! Va bene anche da qui! Io immagino che adesso sia passato un po' più di tempo, quindi siano diventati tutti più bravi tutti dei pro e quindi adesso c'è più competitività nell'aria Attenzione! Ci inseriamo! Si è chiuso tutto! Apri... Piano! Fati bravi! Tamos! Aspetta! Aia! Attenzione! Aia! Aia! Pia quelli! Pia quelli! Cori! Cori! Vai sulla fascia! Vai sulla fascia! Attenzione! Attenzione! Ci prova! Se ne va! Grande così! E la prima è qualificata! Allora! Aia! Aia! Qua dobbiamo rubare la coda, signori! Qua dobbiamo rubare delle code! Qui, insomma, siamo un po'... Lacunosi! Noi siamo i blu! Attenzione! No, il blu non... Non mi... Non mi... Ah! Guarda quel... Dammela a me! Dammela a me! Che tu non sei buono! Dammela a me! Ce penso io! Non me la rubate, eh! No! Oddio! Ma no! Ma vedi che siete degli imbecilli! Ma andate... Scusa! No! Allora! La dobbiamo rubare alle altre squadre! Quindi la nostra azione adesso è da imbecilli che ci stiamo rubando la coda tra di noi! Fermate quello! La posso rubare io? Ve lo tengo! Andate la PA! Io c'ho la coda... Guarda questo! Allora, facciamo così! Mi faccio rubare la coda! L'importante è che lo tiene uno della nostra squadra! Questi non hanno capito come funziona! Chi non ce l'ha la dovrebbe rubare a quelli dell'altra squadra, non a quelli della squadra sua! Vabbè, comunque! Facciamo che, visto che i nostri non hanno tanto capito! Ah! Madonna! Madonna! Datemi quello che la coda! Eccolo! Tamose! Tamose! Via! Attenzione! Allora! Aia! Io adesso o me la faccio rubare da uno della mia squadra che non ha capito come si gioca... O non lo so! Vediamo! Eh! Perché molti non hanno capito come si gioca! Vai, rubatelo a quello là! Occhio! Occhio! No! Quello mi ha visto! Quello mi ha visto! Via! No! Ma come da... Da questa distanza... Levate! Ma come me l'ha fatta a rubare da quella distanza? Piada il rosso! Fermi tutti! Il ro... Edizione! Aspetta che questo moci si può rendere una pa... Boom! L'ho visto! L'ho visto! Palacchiata! Ai e no! L'ho piada! Aia palacchiata! Il giallo! Fermate il giallo! Piada il giallo! Dogori! Vieni qua! Vieni qua! Ma perché non l'ho pre... Ma per... Ma scusa! Vabbè l'ho piada! Ma chi l'ho piada? No l'ho piada! Uno della squadra mia! Vabbè! Non è stata voluta ma... Attenzione! Si qualifica! Con stile anche! Con stile! Ci sta! Ci sta! Allora! Attenzione al terzo round! In cosa consiste? Le uova! Le uova! Fermi tutti eh! Fermi tutti! Vediamo prima di tutto... Allora! Sti giochi di squadra... Quelle d'oro valgono di più! Quindi insomma sarebbe bene... Noi siamo sempre blu eh! Va bene! Preoccupiamoci! Vabbè! Al momento piamone una! E levate! Io vorrei anche capire... Ma se faccio così la lancia? Sì! Ok! Ok! Vai! Prendi quella d'oro! Bravissimo! Aspetta! Levate! Bravissimi! Aia! Bravi! Grande! Eh vedi là il gioco di squadra! Porco due! Ma perché l'ho persa così? Il gioco di squadra... No scusa! Pia l'uovo! Pia l'uovo! Il gioco di squadra è dato dal fatto che tu... Oppela! Ma perché viene rubata? Levate! Ma non mi prendete! Vabbè l'uovo dovete prendere imbecilli! Levate! Attenzione! Dribbling! Boom! Difendete! Difendete! Guarda quello! Se sta a fregare l'uovo d'oro! Piatelo! Piatelo! E dateli... No! Statevi fermi! Boom! Rissa! Ma noi siamo quelli con meno... No no! No noi ne abbiamo 17! Aspetta signori io fermo... Bisogna fermare i ladri! Vai così! Va bene! Noi ne abbiamo tante! Quindi possiamo lavorare sulla rissa! Stanno a scappare! Pia questa! Dai che gialli non hanno capito niente! Dai! Fermati! Dove vai? No tu! Madonna! Oddio! Però hanno ributtato un uovo d'oro da noi! 44 secondi! Vai! Correte! Correte! Io faccio da... Provo a fare da difensore! Rimango qua! Guarda quello! Boom! Bella lì! Sei persa la palla! Dai che ne abbiamo 22! I gialli stanno in difficoltà! Dove vai? Dove vai? Che cattiveria! Signor questo è un gioco... Dove ti fai veramente delle inimicizie! Dov'hai tu? Fermate qua! Aridate ma la palla! Bravo! Bravo! Corri sulla fascia! Lascia la palla! Ehi! Lascia l'uovo d'oro! E levati! L'uovo d'oro è nostro! Via! Se ne va! Boom! Attenzione! Dribbling! Sulla fascia! Pialo! Pialo! Boom! Vabbè ci siamo qualificati! Ci siamo qualificati! Vabbè uguale! Vabbè uguale! Olè! Giustizia fatta! Oddio che dobbiamo fare? Dobbiamo correre dentro... I cerchi? Ti cerchi? Ah! Sempre a squadre! Oh! Eh aspetta però! Vuoi vedere che... No! Uh! Boom! È nostro! Eccolo lì! Preso! Eh questo è tosto però! Perché ti devi trovare al... Al punto... No! Rubalo! E niente! Devi trovare al punto giusto! Al momento giusto! Aspetta rimango qua! Perché se no ci spostiamo! Yeah! Andaglia! Noi mi... Orco due! Guarda che culo! E là! Ma dai! Ho dato una trambata di faccia Sulla traversa del... Del cerchio! Sponameli qua! Qua qua! Dammi qualche cerchio! Eccolo! E se ne va! No! Non è vero! Non è vero assolutamente! Mi ha rubato... Il cerchio così a gratis? Vai! Vai 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 vai! Bravissimo! E allora qua diciamo che ho del... Attenzione che questo si è fregato! No! Mia! Ma perché il rosso? Bella lì! Guarda questo! Buttatevi! E levati! Aia! E no! Ma guarda questo! A kamikaze! E mia! Non l'hai preso! Tiè! Beccate sto bagliocco! Va! Bravissimi! Attenzione! La rimonta! Guarda qua il volo come lo prendo! Oh! Eh! Eh! E aia! Porca due! Levate! E mia! Attenzione! Eh! Quello d'oro là l'ho lisciato! Aspetta! Aspetta! Abbiamo questo! Boom! Questa era la prima volta che ci becchiamo questo! No! Eh! Attenzione! Ok! Questa è la finale! Fermi tutti! Signori! La finale è la finale! C'è tensione nell'aria! Uh! E là c'è la corona! Vai! Vai! Attenzione! Se ne va! Sulla fascia! Sulla fascia! La caccolina verde! Così! Aia! 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 Va bene! Va bene! Tetta la palla! Tetta la palla! Attenzione! Dribbling! Uh! Spingi! Uh! I rischi! Attenzione! Eh! Qua! Qua è tosta! Ah! 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 Ce la siamo giocata male! Attenzione! Ele... Elevati! No! Maledizione! No! Ho preso male! Quello là! Mannaggia! La pupazza! Eh! Siamo stati... Un po' fregati! Da... Da delle... Balestrate sui denti! Recupereremo! Allora! Qua signori! Dobbiamo sfruttare un po' Anche magari gli altri Che sfondano le porte! Visto che siamo anche qua dietro! Questo è proprio alla... Mai dire banzai! Vai! Andate! Andate tranquilli! Noi seguiamo l'istinto degli altri! Eccolo! Vai! Vai! Vai forte! Attenzione a questi! Eh! Attenzione! Aspetta! Aspetta! Aspetta che si aprono le acque! Bravissimo! Seguiamo lui che è forte! Seguiamo lui che è forte! Eh! Fermi tutti! Io mi fido di lui! Mi fido di lui! Non abbassa! Ai! Ecco due! E questa è questa! Bella lì! L'istinto! L'istinto del bomber! Attenzione! Questa è questa! E l'altra! Aia! Però era giusta! Attenzione! L'ultima signori! L'ultima! Boom! Madonna mia! Cori! 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 Dai che siamo primi! Aia! Ma che fa? Buttati pezzi in testa! Levati tu! Levati! No! E lasciatevi brutti! Ma... Guarda questi! Questi si aggrappano! Che va aggrappate? Attenzione! Altro percorsone da panico! Ce la facciamo! Dai che ce la facciamo! Verso l'infinito e oltre! E' il primo pezzo che mi frega! Non sono mai riuscito a non cadere su sti birilloni qua! Attenzione! Siamo nella mischia qua! Vai così! Attenzione al piccione! Qui davanti! Spiccione! Spiccione il piccione! Oh! Oh! Fermi! Vai così! Bravissimo! Vai così! Attenzione al piccione! Levati! Spingi! Spingi! Bravissimo! Vai vai! Datemi una mano! Vai così! Bravissimi! Oddio! Stiamo a più a velocità! No! Piano che si chiude tutto! Piano che si chiude! Non spingete! Non spingete! Attenzione qua! Occhia alla palla! Occhia alla palla! Occhia alla palla! Alla! Attenzione! Attenzione! Se ne va! Prova ad andare in testa! Attenzione! Di finezza! Di finezza sulla... Eh no! Siamo secondi! Ahia! E là! Va bene dai! Secondi ci sta! Tanto la qualifica... L'importante è rientrare tra tutti poi! Capiato! La frutta? No! Eh... Attenzione! Qua è sempre quello della coda che potrebbe essere una cosa positiva ma anche no! Dipende un po' dal team! Se ci fregano le code o meno a vicenda! Cioè nel senso se proprio quelli dello stesso team ti rubano la coda! Ora io dove sono? Ok io non ce l'ho la coda! Io li lascio stare quelli del mio team perché giustamente... Vai! Andiamo alla caccia della... Eccolo là! È lui! È lui! No! Guarda pure quello secondo me lo potevo via! Eh no! Ormai ti ho fucussato! Bello! Damo se! Damo se! Ce l'ho ancora io! Damo se! Via via via! Via via via! Cori corri! Sì però un minuto e quaranta non riuscirò mai a tenermi la coda! A meno che non facciamo delle gigioneggiate qua! Aia! La pozzanghera! Allora io rimango qua a fare il dribbling signori! Chi vuole viene a prendermi la coda! No! Stavo a scherzare! Stavo a scherzare! Stavo a scherzare! Damo se! Attenzione! 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 Se ne va! Cori! Dribli! No! E levati! Vieni qua! Abbiondo! No! Ma che c'ha? Squadra! E damme sta cosa! Damo se! Damo se! Ehi! Là! No! Eheh! 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 Fati bravi! Fati bravi! Poni! Ah! Aia! Aia! Dai che non è successo niente! Ciao caro! Attenzione! E là! Grande! Guarda qui! No! Ma è bravissimo! È un genio lui! È un genio! Posso rubare la coda a quello pure se già ce l'ho! Ma quest'uomo ha vinto! Ma bravissimo! Lo faccio pure io! Aia! Aspetta! Voglio farlo pure io! Attenzione! I numeri! Grande dribbling! 24 secondi! Insieme al gufo! Grande gufo! Bravo gufo! Hai vinto! Oddio! Il gufo si sta... No! Non spingere gufo! Che qua andiamo a finire... Aia! Il gufo! Il gufo! Attenzione! 10 secondi! Grande gufo! Bella lì! Così si fa! Di finezza! Attenzione! Due secondi! Bravo! Cos... Come over time? Attenzione! Attento al rosso! Boom! No! Attento! Attento al rosso! Bravo! No gufo! Gufo! Ti ha rubato! Fermi tutti! Ma come over time? Ancora! Basta! Chi è che non perde? Perdete maledetti! Io rimamo con qua... No signore! Questa è la strategia dell'anno! Certo! Usciamo dal gioco con... Il cervello baga... Eh! Basta! Eh! Abbiamo un dolce! Devi sapere far... Eh! Il gufo ci ha riprovato! Comunque bella strategia questa! Grande così! Bravo il gufo! Comunque ci ha dato una bellissima idea! Bravo! Allora! Allora! Questa la vedo difficile! Slime Klimb! Questa non l'abbiamo mai fatta! Aia! Questa la vedo molto male! C'è anche lo slime che ci ammazza? Mi sa di sì! Mmm! La vedo male! La vedo... Eh! Eh! Fati bravi! Bra piano! No! Dove andate? Ma siete... Aia! Piano! Piano! Fermi! Fati bravi! Non spingete! No! Eh! Questa sto figlio di una picciona! Levate! Aia! Spostatevi! La palla! No! E se ne va! Ma posso... Ma questi tagliano! Attento! Attento! Si scivola! Via! No! No! Eh no! Da qua non si risale più mi sa! Mannaggiala! Cori! Cori! Damos! Bravissimi tutti! Bravissimi tutti! Ah! Qua si... Si scivola! No! Si scivola! Come... Come si fa? Cori! Attento! Si scivola! Eh! Aia! No! Questa è... No! Questa no! Questa non mi piace! No! No! Piano! Grande così! Attenzione! Attenzione! Si scivola anche qui! Madonna! Questa è tosta però! Ahia! Cori! Cori! Non mi spingere! Guarda sto fio! Ma vedi che... Oddio! Ahia! No! Arco 2! Cori! Rialzati! Attenzione! Scivola la... La palla! Attenta la palla! Occhia la palla! Attenzione! Secondi ci siamo qualificati! Bene così! Bene così! Questa è la finalissima penso! C'è tensione nell'aria! C'è tensione nell'aria! Io faccio sempre la stessa strada! Ormai la conosco! Ormai la conosco! Non mi devo far fregare dal rotolone! E dagli altri che... Insomma! Vai vai! Scaldati! Scaldati caccolina! Scaldati! Così! Facci sognare! Siamo tutti con te! Caccolino over the top! Attenzione! Piano piano! Piano piano piano! Segui la strada! Segui la strada! Fidati! Fidati del tuo istinto! L'istinto! L'istinto! E l'istinto! In fronte all'abbiamo preso l'istinto! Mmm! Eh! No! C'è solo lui davanti a noi! Deve... Or... Che! Vabbè! Dai! Fermatelo! Bravi! No! Ce n'è un altro! Eh no! Non ce la facciamo! No! Ma che tristezza! Ma no! Guarda! C'eravamo! Siamo stati fregati dalla pallonata! Maledizione! Vabbè! Almeno... Il premio di consolazione che siamo arrivati la seconda volta qua! Abbiamo sbloccato il culo del piccione! Che equipaggio! Allora io metto mo il culo... In realtà... C'abbiamo i vestiti... Due piccioni diversi! Quindi mettiamo... Nell'outfit... Ehm... Ah! C'ho pure il cactus! Mettiamo il piccione un po' strano! Vai piccione! Siamo tutti con te! Spicciona come se non ci fosse un domani! Pure il pollo è figo eh! Pure il pollo! Però il piccione è il piccione! Mo sarà che... C'è da dire che siamo vestiti a metà... In un modo e a metà in un altro! Vai così! Spicciona! Spicciona grande! Aia! Aia! Oh! Vati bravi! Lo spigete! Attenzione! Attenzione! Al pallottolone! Attenzione al pallottolone! Fermi! Bravi! Bravi! Bravi tutti! Bravi tutti! Non tutti tutti ma... Attenzione! Attenzione! Vai sulla fascia! Vai sulla fascia! Cori! Ah! Eh no! Qua sono stato un imbecille! Come pochi! Un imbecille come pochi! Dove se va? Ho sbagliato tantissimo! No! Eh vabbè qua non arriveremo mai! Che erroraccio signori là! Che erro... Vabbè pure questo diciamo che non è stata una finezza! Niente! Ci siamo fatti fregare un po' dalla... Dalla tensione! Dopo aver perso... Due finaloni di seguito... Due finaloni di seguito! Adesso... Oppela! Lo spingete! Oppela! Vabbè! Non è stata una bella partita questa! Ma ce l'abbiamo fatta! Dai! Vediamo il prossimo! Attenzione qua! Scegliamo bene le porte! Come se aprono! Come se chiudono! Noi abbiamo un fronte! Perché se no non risolviamo la situazione! Vai così! Pronti! Pronti! Picciono parte un po' dalle retrovie! Non ci siamo qualificati benissimo! Vai di qua! Vai di qua! Fidati! Fidati! Eccolo lì il picciono! Se ne va! No! Di qua! Di qua! Bravo! Bravissimo! Di qua! Di qua! No! Di qua! Di qua! Bravissimo! E non spingete! Non spingete! Fati bravi! Fati bravi! E niente! No! Non spingete! La finiamo? E niente! C'è dell'ostruzionismo! Attenzione che qua sono i primi 30! I primi 30! E niente! Guarda! Tiba! Aia! De panza! Aspetta che questo è tutto come ci pensi! È tutto come ci pensi! Vai! Vai! Cori! Cori! Bravissimo! Bravissimo! Grande al picciono! Vai! Terzo round! Terzo round! Siamo pronti! Questo non sta andando benissimo! Di nuovo! Slime Klimb! Di nuovo! Livello molto molto difficile! Dobbiamo cercare di fare anche qui del nostro meglio! Cerchiamo di non farci fregare! Questo è tosto! Allora prima al primo colpo ci è andato bene però dobbiamo stare molto accorti che lo slime non perdona e neanche questi che si lanciano così a caso! Qua bisogna stare attenti soprattutto agli altri! E niente! Dove sto? Oddio lo slime! È vicinissimo! Perché mi sa che sale! No! Ve dovete togliere! Piali! Piali quelli! Piali quelli! Aia! Aia! Fermi! Fermi! Fati bravi qua! Fati bravi! No! No! Non spingete! Non spingete! Piano piano! Una alla volta! Aia! Aia! E niente! Qua non ce la faremo mai! Stavolta non è partita signori mi sa! La partita non è partita! Uh! Lo sapevo io! Lo sapevo! Maledetti bastardi! Attenzione! Il piccino è in polla! Eh! Oddio! Qua non è tanto buono stare in polla! Ma me la sento! Me la sento! Così! Bravissimo! L'avevamo subito capito! È questa! È questa! Boom! No! Era questa! Si vedeva! Se l'avevo detto! È quella! Dove sta andando quello? Bravissimo! Bravissimo! E niente! È questa! È questa! Non è questa! È quella! Bravissimo! Attenzione! Eh! Guarda questi che spingono! Prendi quella! Dai che ci sta! Bravo! Bravissimo anche tu! Non spingete! Non spingete! Fate bravo! Aia! Vai di cuore! Vai di cuore! Aia! No! 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 Toglietevi! Fermi tutti! Nella! Olè! È stato... Ma devi cascare la gente in testa! Devi stare attento! Di nuovo verso... Infinito e oltre! Attenzione! Vai picciono! Facci sognare! 31 i possibili qualificati in questo secondo round! Dove il piccione si lancia sulla fascia! Viene spinto! Ma rimbalza! Con stile! Con stile! Con stile! È finito con stile! E niente! Piccione! Fallo per noi! Ti hanno bullizzato! Aia! No! È niente! No! È finita! È finita! È finita! Annaggia! Non ce la faremo mai! Che disdetta! Signori! Siamo stati trucidati male! All'inizio abbiamo sbagliato il senso di marcia proprio contro umano come se non ci fosse un domani! Maledizione! Eh proviamo da questo lato ma la vedo nera! Il piccione mi sa che... Non spicciona come si deve il piccione! Non è un piccione! Mannaggia la picciona! Il rischio! Ma perché? Perché si è buttato a morto? Levatevi! La palla! Via! Corri piccione! Corri! Ce la puoi fare! Torco 2! Madonna il tira al piccione però! Non mi convince sto piccione signori eh! Non mi convince! È l'aerodinamica della coda che non va! Allora vediamo! Vediamo se abbiamo noi la coda! Sì! Non me la rubate mi raccomando! Ma i verdi sono bellissimi! Eh vabbè! Mh hanno capito come si fa! Aia! Uè! 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 Attenzione! Ma come me l'ha rubata? Fermatelo! Fermate quel picciono! Levatevi! L'hai rubata? Guarda sto fio di una mignotta! Rubala a lui! L'ho presa? Chi ce l'ha? C'è il parco 2! Ma non si vede! Fermate il verde! Fermate il verde! Pia... Ah il co2! Pia del verde! Pure il blu! Rista! Vieni qua! E niente! Se è salvato! Ma noi lo riprendiamo da qua sotto! Se è sbilanciato! Dammi! E piate quello che... Ma chi ce l'ha la coda? Ma vi levate! Stiamo lottando tra poracci! Guarda questi qua! Lasciate stare il giallo! Il blu! Il blu preso! Ma perché non me l'ha dato? E levati! Vai vai! Tutto di cuore! Tutto di cuore! Madonna sto piccione però! No io ormai ho appunto... Guarda questo! Ridi ridi! Che mamma ha fatto i gnocchi! Davose! Si scivola! Si scivola! Via 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 via! Aia! Attenzione! Attenzione! Ehi! 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 Ma non è vero! Ma come ha fatto a rubarmi? Aia! Abbiondo! E ruba sta coda! Aia! Vantene vantene! Mannaggia la puttana! Aia! Levati! No! Via! 15 secondi! Se ne va! Se ne va sulla fascia! Attenzione! Il verde! Non va! Rimane qui! Attenzione al giallo! Vabbè il giallo è giallo! È della nostra squadra! 6 secondi! 6 secondi! Siamo lì! In zona Cesarini! Aia! Ce la giochiamo con i verdi! Pier verde! Tu giallo! Occhio al verde! Corri! Aia! Va bene! Va bene! Non fa niente! No! Crisant temo! Dove sto? No! Mi sono fatto fregare la coda come un pollo! Dammi la coda! Pier verde! Pier verde che ce la giochiamo con lui! Così! Al photo finish! Così! Se ne va! 5 secondi! Tanto al verde! Tanto al verde! Orco 2! Ribialo! Bravissimo! Pier verde! Davose! Ma quanti secondi ci sono? Vai via! Attenzione! No! C'è troppo traffico! Aia! Via! Corri! Grande così! Di stile! Di stile! Di zoomata e di dribbling! Fermi tutti col picciono! Tanti alla frutta! Vai così! Vai picciono! Facci sognare! Attenuto al ceppo! Attenuto al ceppo! Madonna! Il cocomero! Il cocomero! Ma no! Così! Attenzione! Non ce l'abbiamo fatta per il momento! Siamo... No! Sto piccione se ne va a fanculo finita sta partita! Guarda qua che non c'è nessuna frutta che ferma gli avversari! Aia! Una banana sulle gengive! Fermi tutti! Attenzione la banana! Preso! Aia! Vai vai! Ah! Attenzione! Fragola! Fermi tutti! Fermate! No! Già si sono qualificati in tanti! Il melone! Il cocomero in realtà! Attenzione! La pesca! Presa! Presa la pesca! Ma come se niente fosse! Ce ne andiamo di finezza? Ultimi due posti non ce li abbiamo! Mi spiace ma non ce l'abbiamo fatta! Basta! Togliamo sto piccione di merda! Non è buono a niente! Via! Vai vai piccione! Grazie.